E parliamo di sanità, dolori addominali, perdita di peso, diarrea frequente e prolungata, fatica, perdita di appetito, febbre. Sono questi i sintomi della malattia di Crohn. In Sicilia sono quasi 7000 le persone che convivono con questa malattia infiammatoria cronica che colpisce il tratto gastrointestinale e in genere viene diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. La variabilità nei sintomi porta spesso a ritardi nella diagnosi e la malattia se non trattata precocemente e correttamente può portare in validità e frequentemente a interventi chirurgici. In Sicilia con la costituzione della rete regionale per la gestione diagnostica terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino con farmaci biologici prescrivibili in tutti i centri di cura atti a gestire tali malattie si sta garantendo una proprietà prescrittiva anche se una recente direttiva regionale impone il ritiro del farmaco presso il centro prescrittore e non presso le farmacie territoriali determinando per i pazienti un accesso difficoltoso a questi farmaci con conseguente aumento dei costi. Per sensibilizzare la popolazione sulla malattia di Crohn e sulla complessità della condizione delle persone che ne soffrono arriva anche nelle sale cinematografiche siciliane fino al 31 luglio la campagna nazionale Aspettando Crohn, l'agenda impossibile. Per voi servizio. Dare una stima dei casi di malattia di Crohn è sempre più complesso. È possibile stimare che ci sono circa 16.000 in Sicilia i casi per malattie infiammatorie croniche dell'intestino ed in particolare la metà di questi sono per malattia di Crohn. Questo comporta anche un notevole impatto dal punto di vista assistenziale via più crescente e quindi è necessario adottare delle strategie di miglioramento della proprietà degli interventi ad esempio come rafforzamento degli interventi di presa in carico integrata tra ospedale e territorio. C'è un problema di registro nel senso che non esiste un registro italiano di patologia per sapere quanti sono questi malati e questo chiaramente ci permetterebbe di gestire la malattia in una maniera più efficace perché poi alla fine la sanità è fatta di numeri. C'è un problema di ritardo diagnostico e questo può essere risolto con l'applicazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale c'è un problema di costi che può essere risolto con la standardizzazione dei percorsi e tenendo conto che spesso erogare una terapia o fornire un certo tipo di trattamento a un paziente può permettere un risparmio in altre aree di spesa che possono essere quelle relative alla perdita di produttività. I sintomi predominanti sono prevalentemente intestinali, quindi la diarrea, la diarrea cronica e il dolore addominale che sono presenti in circa il 60-70-75% dei pazienti. Però vi sono un 20-25% dei pazienti affetti da questa malattia che hanno sintomi aspecifici cioè sintomi non tipicamente intestinali ma di carattere generale come per esempio la febbricola, il dimagramento, l'anemia oppure disturbi oculari, cutanei. Le complicanze più frequenti sono quelle intestinali con comparsa di stenosi c'è restringimenti dell'uomo intestinale con comparsa di sintomi subocclusivi o occlusivi che portano questi pazienti all'intervento chirurgico di resezione intestinale o oggi di un intervento chirurgico che tende a risparmiare l'intestino facendo delle plastiche di queste stenosi. I farmaci attualmente disponibili non sono tanti. Abbiamo la terapia convenzionale, cortisone o immunomodulatori e poi abbiamo tre tipi di terapie biotecnologiche. Perciò su questi farmaci dobbiamo giocarci tutte le nostre carte per raggiungere gli obiettivi. L'obiettivo deve essere la remissione libera da steroidi o meglio ancora detta la remissione con una guarigione tra virgolette del aspetto dell'intestino. La malattia in sé non è curabile ma l'intestino è curabile. È vero che dobbiamo dare a tutti la possibilità di cura e quindi avvicinarci al paziente significa proprio eliminare gli ostacoli laddove questi diventano determinanti per potersi curare. La seconda cosa che mi sembra molto importante è il discorso di lavorare molto sulla comunicazione attraverso campagne di prevenzione. Io credo che sia una campagna importante perché completa il percorso di ricerca. La missione di un'impresa come la nostra è quella di fare ricerca per dare soluzioni ai malati che stanno aspettando. Le soluzioni spesso non sono solo farmaci, sono anche aiuto, aiuto nell'indirizzarli. Questa è una malattia dove è difficile fare una diagnosi precoce dove spesso i giovani rimbalzano per anni prima di trovare una diagnosi corretta. Io credo che sia giusto che un'impresa come la nostra che fa ricerca la debba fare a 360 gradi anche nel ricercare quelle soluzioni che diano aiuto ai malati.